io cambio la cam e mi smoovo ed eccoci qua con il protagonista di famous e gli altri due e si vede di merda la webcam aspetta no io la vedo bene anche io la vedo bene no la posso scocare si leggermente proprio amici comunque io so già cosa ha fatto more anche se non me l'ha detto a me non l'ha visto nessuno ancora non ci ha detto niente ma io so già cosa ha fatto secondo me ma non l'ho detto a tutti no no cos'hai fatto proprio nello specifico la cacca secondo me ha fatto come kianobit l'ho detto no grazie non me l'hai detto ho detto io che secondo me fai grazie darkmark la mia domanda è morelli non stai morendo male con il perito di lana in casa ma l'ho messo esattamente in questo momento quindi tra quattro secondi mi vuoi dire ma allora ragazzi facciamo così a raggiungimento di 300 euro di donazione e 2000 sub non stasera nel senso totale mi tolgo mi tolgo ma tra l'altro io diventerò per davvero arro corvo entrerà in ww il cappello il cappello è corto è corto in realtà non ci vedo un cacchio perché c'è l'ombra ma perché è una macchina e se sta dunque lì l'ha accorciato vabbè più corto della barba della barba della basetta diciamo e liazzar intanto oggi ha fatto oggi ha fatto un post liazzar su la felpa di zabi se non l'avete visto sì che tra l'altro dopo quando arriva un po' più di gente voglio rimettere il link perché il codice comunque funziona qualunque cosa non solo per cose specifiche quindi dopo lo rimettiamo bene esattamente poi non sono io alla fine non l'ho visto della sdans lo guarderò poi stasera prima di andare a dormire a me non è ah ma non è pelata allora no la pelata no non è liscio non è ho detto mi radevo mi rasavo non me li pelavo adesso ve lo metto alla fine li ha fatti verdi comunque quello di cui il codice da mettere su zabi con la pittura la testa ho fatto verde è questo ma poi sarà una grande illusione perché sono pelato cioè sono veramente ho guadagnato almeno 30 anni ho guadagnato ne dimostro 60 ora vabbè moro fai come torrente puoi fare il protagonista di torrente assolutamente sì sono lui sono oggi ho provato a gonfiare la panza più di quello che avevo ero torrente ero vabbè ci sta con la canotta un po' di macchioline di unto sì sì grazie Fabrizio grazie Fabrizio Frizzi è ospita passo eh comunque giochiamo su questo giallo eh prima di mettervi la schermata entro nel gioco così non vi grazie Ara 41 taglio alla Danny DeVito o alla Danny Lazarin lo scopriremo subito può darsi anche alla Danny Lazarin completamente pelato ma Danny Lazarin nel senso la spalla o la testa beh entrambe sono abbastanza lisce crea la partita grazie a Pol Popole grazie a Laika Pini grazie a Pol Popole grazie a Laika Pini grazie a Pol Popole e ai 27 ladroni ah tra l'altro oggi proveremo la seconda mappa fatta da Pasquinto che è quella che ti da oggi quindi dobbiamo recensirla amici a me state entrando tutti su Steam e non riesco a entrare io aspettate perché perché mi copre il clip tutto occupato ma non è che vi devo illudere semmai vi deludo poi quando la tolgo appunto ci illudi per poi deluderci ci illudi della delusione ma perché vi illudo scusate ho detto che faccio cagare sotto non è che no ragazzi io sono giovane punto non è che sfida la mia giovinezza io sono giovane e basta al massimo poi può essere io c'ho il cappellino può provare a essere giovane anche lui ma io c'ho il cappellino io c'ho la questa è effettivamente un po' da nonno però io c'ho il cappellino c'ho la regina dietro che mi fa sembrare più giovane io c'ho scendo una cosa da giovani grazie a Dale scusami grazie a Dale grazie mille io c'ho lo sbappo che da giovani allora io devo entrare dagli ezer poi metti la password io non riesco a metterla io il lego più giovane di quel è quasi quasi piccolissimo allora siamo tutti dentro vado a mettere la password posso far vedere guardate il nome della mappa dove lo vedo il nome anus fammi vedere come l'hai scritto anus un attimo che devono guardare anche loro l'ho messa nel gruppo dei sub aspettate che non vedete Morelli un attimo e la metto vedi che c***o ormai io l'avevo anche tolto il cappello per un momento oh peccato e la metto anche nella stanza di sub su discord è già quasi pieno c***o c***o l'altro amici anche io ho un pantaloncino corto lui sembra nudo perché non si vede l'altro sembravi avvinghiato la principessa cugina anzi io ho due paia di pantaloni della tuta anche perché qua sta più vendo mi chiede la spiegazione della mappa va mi chiede la spiegazione della mappa va io non sono normale da una mappa più dall'altra tutte si possono fare in un tiro ma lo dice sempre pasquindosi poi solo lui la fa con un tiro beh è ovvio che lui l'ho usato le balle mi sono scordato di quello però mi sono rifinito anche la mappa ti hai rifinito anche le balle ci ho messo veramente ci ho messo tre ore oggi a arraggermi principessa cugina purtroppo non ho coraggio di togliermi il cappello amici mi spiace non lo farò questa è only one no c'è uno davanti c'è qualcuno che ha fatto un tiro e si è parcheggiato davanti Roby grazie per il tuo incredibile suppostante adesso sono arrivati anche quelli della Roby molto bene zombie e prima o poi dovrai ma io ho togliato c'è io non ci credo ragazzi incredibile ho aspettato ho aspettato ho preso comunque qualcuno 203 Amoro semplicemente oggi vuole essere giovane in realtà non c'è tagliato i capelli eh ma c'è una musichetta lì sotto io l'ho abbassata ma porca miseria per un'altra volta ancora è successo ti avevo promesso e sarei tornato per la testa ma che stronzo Darkman in mezzo ai coglioni si è messo ma Darkman ho tagliato la forma di cappello ma Darkman cosa fa? cosa fa? a mille spettatori mi tolgo il cappello bravissimo eh? ma non ci arriviamo al mio spettatorio quanti siamo scusami? 333 quanti siamo ragazzi? 333 ma io vedo 373 perché dov'è tornare ma io dovrei vedere prima di voi sto streamando io ma figurati grazie in firs grazie non li vedi bene ma dov'è la buca ecco che non è una l'hai capintius ti banno l'hai capintius ah corvo che figura di merda che cacchio ha detto ma io voglio capire cosa è questa mappa scusa cosa ha di no sono tutte all in one ma sono tutte le vedi sempre che vanno tutte cagare perché non sono un buca in una adesso l'ha fatta tutti i buca in una e me miss piace però l'ha solo corvo sta riuscendo a farli tutti in una e io sbatto sempre contro qualcuno questa è più difficile farne in una però beh che ci vuole e invece l'ho fatta un attimo ma sono andato di line vuoi comunque vincere mi fanno lo stesso no ma tu come ho detto sei fatto i capelli verdi con la cresta tagliata a metà cioè c'è solo la cresta da un lato però tranquillo qua c'è la cresta di fianco oppure c'hai la striscia del rasoio in mezzo e i capelli ai lati no sapete cosa bisogna fare? allora ma peraltro ti vedono piccolino ve lo amoro vabbè merco meglio così ma adesso spengo anche le luci eh ma sparta che c'ha un botto eh un salto non l'ho visto si c'era un salto un capello c'ha un botto tipo non ho capito che schifo che faccio eh ragazzi mi vergogno di me stesso io dove cazzo è la buca? è dritto basta andare in dritto sparare è che continua a fare troppo corto guarda frangi ero dove era lei quindi sto sicuro ma è proprio velocemente in là ah ma bastava entrare dentro però tutti hanno sbagliato quindi eh ma perchè pensi a cose incredibili invece no eh che schifo ma eh ha preso sulla parola eh che pesce questo rutto dai lo fatti in due perchè no le mie preferenze sulla parola e nessuno ha più tutti in uno no non ho fatto il perfect ma io dove sono? sono in fondo è ultimo sono questo è difficile eh a me non è vero ma va soprattutto se prendo gli Ezza non è possibile sto prendendo sempre qualcuno non è un rutto l'ho potenzialmente come si dice l'ho nerfato bravo Giochi Franci incredibilmente Dan Gianni quindi potevo stremare anche in anteprima il prossimo Metal Gear Solid fatto da Kojima veramente eppure eravate qui solo per la mia testa di cazzo che ormai è quello e io ve lo assicuro nooo ma sono un pezzo di merda oltre che a testa di cazzo ma mi ha dato buca comunque l'ho fatta da sotto io la buca è fucilata no ho sbagliato allora amici il fatto è questo vediamo una cosa prima no non è ancora il momento aspettiamo Marco che fai quindi ragazzi eh ho fatto una vergogna ho fatto una vergogna ma però vedevo comunque la mia pallina anche dopo che avevo tirato perché scusa veramente che vergogna ragazzi adesso tiro subito prima nessuno fa casoletto il mouse barco stai tranquillo però ormai scusate ah così sex che se qualcuno mi tocca mi cazzo Crazy cracking Grazie Crazy 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 Round Dove ne investire sulle patate Quindi Farming Simulator prendiamo le patate Grazie Memi Ma perché mi vedo da solo in Spectator? È l'ultimo quando non c'è più nessuno Esatto Il Vordì, scusami, è una cosa stupenda Questo cappello mi sta torturando, mi prude tutto Credo ci siano degli insetti Ho errato Ma la parte che non mettevi quel cappello, amoro, scusami Eh, sanno 15 anni probabilmente Ah, grazie Dov'è la patata, chiedono La pelata in realtà, però era più bello pensarla così Vai, Franci Marco, come ti sono sembrati i miei episodi di Last Dance? Io non l'ho visto alla fine, amici, lo vedo stasera Anche io li ho visti Non ho avuto modo, poi lo vedrò stasera Grazie, Nea Anche perché sono comunque due ore, quindi Ah, questa è quella quella di prima La fantasia, però, ha scritto Ma che cazzo Ma vogliono dire qualcosa Guarda che iniziare, ora sono parcheggiati proprio i mezzi coglioni Forse ha scritto heinus Può essere, no, ma perché è uguale a quella di prima Non ci ho fatto un canto Non ci ho fatto un canto Farebbero stati cinque mappe, Marco Magari qualcosa di... Trenino heinus forse ha scritto Ma io non sono proprio pirla, eh Vergogna a me Tanto ormai sono ultimo Chi se ne può regare Non posso fare una brutta figura più di così Allora, il fatto è questo Quando io mi tolgo il cappello Farò cacare, no? Subito, istantaneamente Tutti che spruzzeranno merda Che mi puzza Però poi A me non ha cambiato niente Però Allora, voi dopo dovete stare a guardare tutta la live No, perché c'è un pezzo di ceramica e augure Dovete guardare la live Fissi Tutto il tempo Grazie, Chase Grazie, Chase Dovete guardare la live fissi Tutto il tempo Così vi abituate subito Io voglio ammazzarmi dentro Eh sì, così tanto, Marco Adesso non è che mi sono fatto lo scalpo Beh Che roba, ragazzi Che roba Infatti, io la prima cosa che ho detto Il cappello comunque lo tolgo A 2000 sub Ezra, quanti siamo? 1247 Eh dai, tra poco Il lot Grazie mille, Il lot A essere ottimista Siamo già oltre la metà, eh Grazie, Fabri Di cosa? Eh, mi hai spinto Quindi adesso ho fatto con uno anche io Ma fanno un po' caccare Queste mappe Però mi sembra una scritta A me, ragazzi Ah, può essere Perché questa è una I Quella di prima sembra una U All'altro Fatto In alto E io sono comunque ultimo Fa scritto se ne ho detto Niente scritte No, rose Devo Devo pensarci Krauser? Hai bisogno? È deciso E qui ho la stempiatura Che mi arriva qua dietro Dopo, no? Quindi non prendete paura Quanto siamo tra amici Guarda quanto sono indietro Rispetto a tutti Incredibile Ma che vuole la Francesca? Ma tutto il pizzettaro Mi ha dato Ma che ne sa Le muro Lasciamo a perdere Questa bastarda Ma Fammi entrare Sono entrato Di canio? Ci ha spostato proprio Dark Perché di quel potenza Ha fatto bene L'avete insultato prima Io ti fu per lui Bravo Paolo di canio Puoi sembra Sì Eh, oi c'è Forse Leggio Credo ti tiro sul murale Nel senso che Vuoi ridere di me? In quel senso Credo, moro Sì Ho recuperato qualche punto Forse da Franci Poi capirai Però Ma io dove sono? Io sono un pezzetto Questo è un culo Ma sono le musiche di Worms Ma ne ho letto 5 euro di mancia Alla cameriera Delacchi 5 euro E dice Lo dice il voto Stavolta mi sono ricordato E non dico Complimenti per ieri sera, Moro E grazie mille Per le serate regalate Sia per le risate Sia per le emozioni Grazie Solo a Moro, scusami Ieri sera io ho rullato E ha rullato Quindi quando parla di risate e emozioni Parla di ieri Quindi non me ne frega niente Di tuoi soldi Adesso gli urivi dagli dietro prendo io riprendo scusa giusto figo sono già fatta vedere l'appelata no so proprio fra il canestro a ciuffo no porca miseria è stato l'infame e anche ti rido i soldi solo perché devi assistere a questa vergogna no io non ci credo grazie panda verona a te panda sono biondo in realtà mi sono fatto biondo sotto o 2000 sub cosa avevi detto 2000 sub o 300 euro di donazione le mie mani sono da un'altra parte 300 euro è meno rispetto a 200 però non ci abbiamo le tasse comunque ne mancano 800 di sub fai i calcoli 2000 sub si ma ammetti che arrivano sub l'ha detto moro? chi l'ha detto 2000 sub? pare che 2000 sub è ma vaffanculo mancano 800 di sub neanche ma io veramente mi vergogno di me stesso sono 2000 sub stasera ma 2000 c'è corpo tu sei a 18 adesso un po' di più no ma adesso sono ultimo ammetti che arriva un benefattore nel regalo a 800 meglio meglio guarda lì scusa e anche io sei non mi giudicare eh per favore buon sud sono io ho altre qualità che non sono quelle di giocare a rosa ma che posso chi ha fatto in qua? viva il sud certo c'è che mi ha picchiato vabbè grazie viva il sub oh streghetta ma questa era facilona eh invece due li ho fatti comunque eh un trappianto di capelli mi servirebbe un trappianto di capezzoli dovresti fare con dei salamini ma ce n'ho già due vabbè con dei salamini almeno i trappianti infatti non li aggiungi scusa aveva detto anche mille spettatori è vero eh beh lo so aveva detto mille spettatori eh ma non ci siamo no ancora no grazie io mi vergogno un po' tanto ragazzi penso io ma questa è la musica di pandemora panchi cazzo assolutamente no allora sirpego dai dai sei proprio davanti ho sbagliato ma io adesso devo cambiare anche la pallina ho la pinna nella pallina te guarda il cazzo devi fare la pallina con la chiave ma perché maria della signora morelli ah non ma visto stavo pesando la tua mamma io moro non so perché non mi ha ancora visto lei sentemi forte per la buca 18 dice pasquindustry immagino lo schifo ah che infame la francesca ma la vecchia like di fifa guarda che ci hanno donato ma non aveva chiesto un cacchio noi eh no fatti non era un bacio neanche per scherzo proprio non avevamo chiesto niente anzi a certo punto sì a un certo punto ragazzi mi raccomando perché un stesso soldi 18 eccoci vediamo un po' quello questo c'è della ritorna ma io non voglio spoilerare ah il trenino questo vedi è il trenino marco vedi questo è il trenino con dei macaron trenino con dei macaron ha fatto buca che schifezza è veramente disegnato ma sono i peletti di barba ma dove sono scusate sono delle spade non vedo la punta però è apprezzabile per averlo creato scusa marco eccolo mamma mia mamma mia cosa ho visto no è filo spinato la barba sì vince big joji per un punto bravo pasquo indus apprezzo la tua la tua situazione è terrificante ragazzi chiedo scusa terrificante terrificante ecco abbiamo mappa amici mi raccomando entrate a giocare insieme a nosotros moro quando hai intenzione di fare il testa di cacchio io ho ho detto eh ma non io l'ho detto eh siamo a mille spettatori no chiude tutto però ragazzi se lo tolgo sono pelato per davvero perché mi sono caduti tutti i capelli sono pelato per davvero ha detto eh no non sono pelato sono rasato eh forse se tengo ancora il cappello per cinque minuti probabilmente rimangono tutti nel cappello adesso è co-carnage con la barba più corta eh ma adesso faccio devo puntare sulla barba infatti e punti a fartela arrivare sopra sì te la leghi te la leghi con i fiocchetti con i fiocchetti eh tipo fiocchetto no dai amici entrate in questo gioco delle palle per favore nelle palle nel senso che si gioca a golf eh eh ti colpiscono le palle sì allora amici io lo faccio sono deciso mi sono deciso eh no non lo faccio ancora non lo faccio dai posso ragazzi non posso eh bravi entrate entrate amici forza 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 ovviamente se vedete che non entra nessuno rientrate anche devo togliere la pinna guarda un po' personalizza se c'è un cappellino se mi avvisa quando lo fa rimetto la schermata del just chatting però mi deve avvisare non può farlo metto terribile Marco io faccio l'improvviso lo faccio subito nessuno mi vede fai quello che ti pare fai quello che ti senti no cosa five night amici dai forza su muovere queste chiappette dai dai che ci divertiamo magari non arrivo ultimo dai ancora due poche io non ho mezzo in misura comunque io faccio un secondo posto o vinco o in fondo ah pasquini si vabbè che tanto non conta con la classifica poi ah si lui è e fa solo e lei capì è entrato in città ho fatto uno scherzetto dai lo faccio ragazzi almeno vi abituate va bene dai perché sennò poi è un casino all'improvviso alla fine sennò poi non vi abituate mai c'è un altro cappello sotto secondo me c'è un altro cappello sotto dove va dove va cosa fa è iniziata la mappa ma non ci farei tanta roba adesso si gira e vedi la regina che fa così la sagoma che lavoro scusate boh boh marco puoi mettere sottofondo la musica tipo e non ce l'ho sotto mano eccolo non sapevo sei prevedibile insomma possiamo giocare però almeno mi hai metizzato con le punte va tutto rosso adesso è più fresco magari perché stava un po' moreno ma io vorrei essere lì però eh nella mappa se è possibile è possibile raggiungere la mappa esatto perché mi piacerebbe giocare in un certo senso ma effettivamente siamo un po' distanti piacerebbe essere un attimo ragazzi non siete ancora mille non siete siamo arrivati a 2000 300 euro io non li vedo eh dai cos'è successo ah il nome della mappa va bene il nome della rosa io me la ricordo questa che bella che bella che bella che non può scasseggiare quelle belle quelle sicure ah questa era bella no questa era bellissima questa qui c'era una buca di merda ce ne ha più però è bellissima mi piace un sacco menchia che menchia qua ah ma è laggiù perché non guardo mai le mappe prima di tirare perché siamo degli stronzi questa volta non ce la fa laser ce l'ha fatta invece perché si poteva fare tranquillamente in una se solo avessi usato 4 ho fatto non ho capito c'è Marco non ho fatto una live intera con il cappuccio adesso tu ti rompe i coglioni a me ma che voglio ma che voglio non ho capito io io quando sono passato dai cappelli lunghi a quelli corti non ho chiesto i soldi ma non sono money grab avrei potuto farlo avrei potuto farlo però è semplicemente uno che non pensa al marketing comunque è pure il mio nome è incredibile pensa a te sarà per quello come sei un antipatico giordo come ti permetti e si arriva di là ma sto solo giocando oppo con la mia community ma questa buca è una merda e che palle emperor suppli o suppli suppli sarà però mi piaceva dirlo non sei un gold digger io non ce la faccio ragazzi sono proprio scarso ma non è possibile come si fa ma pippo dai moro si scappelli ma come ma cosa sto facendo con queste mani fischiette eh ma che ne so moro ma che faccio basta non ce la faccio più entro nel panico inizio a entrare nel panico comunque ho aperto un patreon anche se volete madonna moro non funzionano ma non credo aver mai funzionato neanche quando andavano di moda holy fans cos'è holy fans è una cosa nuova è quella delle signorine che si spogliano nude mi piace io voglio spogliare io sono riuscito a fare buca cambiando buca però fai hollow night prima nell'altro amici ho proposto di hollow night lo vuoi fare allora moro hai deciso io lo credo a me ma cazzo vieni con mancissimo ma io domani devo fare la live però tu l'hai proposta tu l'hai fatto eh lo so ma non ci ripensavo che l'ho messo così eh vabbè ma peraltro non è che non ti farlo facciamo un'altra cosa me lo dici no no a me va anche che vabbè tanto lo dobbiamo fare non è che amici domani mattina faccio ma scuola ma poi cosa fai il dlc o roba nuova roba vecchia cosa fai no lo faccio dall'inizio ah lo ricominci eh ma che sbatta no io l'ho completato cosa faccio eh ci sono i dlc l'hai già fatto ma si non è vero l'ultimo quello ma è tutta una boss non lo faccio quella lì in live no però domani mattina amici facciamo la prima puntata di una botte via ah ecco come si chiamava una botte via in realtà la volevo fare anche io ma abbiamo deciso saggiamente di non farlo ne farne due nella stessa settimana aiuto che traversa con strozzate di non farne due nella stessa settimana e quindi domani mattina la farà Moro con All Night e poi ci sarà farò anche io un'altra puntata di un gioco che ho già pronto non so se prossima settimana vedremo quando non vogliamo neanche riempirvi di giochi una botte via una botte via ve lo faccio vedere stasera non lo taglio dai però domani mattina una botte via non su HolyFans ma sempre qui su Twitch vi mostro io il mio gioco preferito della storia di videogiochi il gioco prefe il tuo prefe io sono adesso vorrei capire Pasquindus come è possibile che abbia fatto uno 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 vi faccio conoscere Hollow Knight molti di voi già lo dove ne siamo andati Pasquindus un bel lavoro perché ti ho seguito però io ve lo faccio conoscere perché ci tengo veramente tanto non scherzo è uno dei miei giochi preferiti di sempre ormai che cazzata che sono io proprio come esistenza si sono proprio una cazzata non mi fido moro da uno che gira col cappuccio infatti come Biosi Barbie eh simpatico si molto ovviamente ragazzi ripetiamo per chi non sapesse non ci avesse seguito eccetera magari poi dovremmo spiegarlo anche su Instagram o insomma nei social una botte via in cosa consiste prendiamo giochi che stiamo giocando anche per i fatti nostri o giochi di da day one insomma giochi no è più Arsenal che Arrow giochi in generale giochi che ci intrigano che vogliamo giocare anche per i fatti nostri o solo con voi live per una volta e li facciamo appunto per una volta in live quindi non ci sarà una serie Sanflower Sanflower con Nico con Nico dice Moro escici i capelli Moro escici i capelli l'ho ripetuto figurati non ne sto cercando una incredibile di prima di prima ah ma questa volta mi ricordo che la legge forza Arturello assolutamente no grazie semplano grazie io non ho mentito cosa ho detto io non ho mentito alla mia community mai l'ho fatto e mai lo farò io voglio spararmi in maniera figurata ci mancherebbe ho mai mentito vabbè va bene anche la cazza di sì in realtà sai le cazzate che ho detto la prima Moro è che ti tagliate i capelli che culo hai appena detto una cazzata dicendo che non dicevi mai cazzate lì si ha detta una quindi apposta tornare al quiz di una settimana fa in teoria questa settimana dovremmo ricordarlo vogliamo fare quiz non lo so non ci avevamo pensato allora Gatto mi ha chiesto mi ha detto che se lo facciamo senza di lui si offende e ho capito chi se ne frega Marco sul culo giovedì dovrebbe esserci giovedì c'è le live con gli altri sono sempre a giovedì ormai teniamo il giorno fisso a giovedì eh sì che pazienza fatemi spostare volendo si può fare buca siamo che buca siamo eh ancora siamo la quinta ragazzi e metto riusci a rimettere le cose di Zabby un attimo ma poi basta parlare dei miei capelli ormai sono andati voi cosa cosa fanno sempre insieme ai miei capelli invece Moro no voi invece in chat con me ve la passate ma ultimamente lo sai che sei in cerca di attenzioni Moro comunque prima il gioco e poi i capelli ora che gli stiamo dedicando tutte le live del canale poi beh fa piacere per carità che si apre che condividi ultimamente ma dimmi se vuoi se vuoi ti organizziamo una 12 ore per terra sono in quarantena da due mesi ci facciamo una 12 ore per terra a parte ragazzi che io veramente adesso mi picchio da solo in live e ci facciamo bannare perché è veramente una cosa disgraziata quella che state vedendo mi chiede ma sei veramente uno stronzo in effetti e ho detto ma ci facciamo una 12 ore e la chiamiamo Morelli che fantasia Mark però con tutti i giochi hai fatto 10 tiri tutti i 10 uguali ero in una situazione fasticosa ero in una situazione fasticosa ma che non è in una situazione fasticosa nella vita ma siamo qua per parlare dei capelli di Moro basta concentrarci sulle mie abitudini che tipo di abitudini quelle sessuali ah ecco ovviamente corvo tra l'altro corvo domani mattina non c'è perché hai detto che vi odia si non è vero no ma di nuovo qua no non ci deve essere quindi ci sono travessi avrei dovuto ma faccio un low night quindi non è che anche se c'è chi suone fuori ma poi è allo night proprio perché non c'è proprio perché non ci sono fatto è così facile ma era così facile anche prima ragazzi eh adesso vado c'era la coda aspetta eh ma l'ho fatto immediatamente che figura di merda chi è questo qua davanti come è stato possibile ma l'ho fatto al primo tentativo ma forse non ero nella stessa posizione eh sono tornato vado eh vadi è andato si prego prego ma tu ti guardi e non è che i problemi della della mezzetà è che facendomi la rasata è cambiato tutto ormai ho guadagnato 30 anni ho guadagnato quindi adesso c'erano 60 hai capito facciamo anche qualche cappello bianco ho detto minchia la mia vita che se ne va i capelli bianchi sugli occhi si vede anche io ne ho qualcuno qui sui lati eh ma io ho tipo quattro i capelli bianchi non sape quei quattro da anni ormai i capelli bianchi no io allora io se prendo da mio papà l'anno prossimo i capelli bianchi se prendo la mia papà io la prossima non ce l'ho qui i capelli siamo 925 952 ha scritto francia ma francia dice le cazzate a mille spettatori ma il fatto è che dopo vuoi vedere che tolgo il cappuccio un drop di spettatori incredibile arriviamo a 200 ma non è vero che guarda che ultimamente con golf ci seguono parecchio la gente è qui solo per la mia pinna e se quando non la vede più va a guardare il cestino poi non va a guardare la nostra live cestino è il cestino dove ho buttato i miei capelli ero un po' articolata effettivamente non ce l'arrivo era una metà ragazzi quasi quasi mi vergogno ragazzi che palle voglio il quasi quasi dai marco ma che 980 scrivo 2000 scrivo certo facile così stronzi fa fate quello che vediamo noi sulla dash guarda che sono i numeri giusti se io voglio questa sera non vi faccio vedere una minchia beh quella non la fai vedere per forza che ci bannano esatto però volendo posso puoi anche sparare però pare che siamo scesi a 915 questa è è terra de rose il tizio la maratona dedicata a moro è una moratona comunque mo' ascolta un cretino aumenta il transito di figura figliuola ecco ma perché figura scusa ma non l'ha scritto figura perché l'ha detto il bot grazie perché di fig perché ha scritto per farla gay che ha scritto fig e poi figliuola e però lui ha scritto lui ha detto figura perché figli perché c'è ogni puntino è intelligente il bot machine learning grazie fra grazie ma con 6 euro non abbiamo nessun suono scusa però vedi immediatamente sarebbe bello ad abbassare tutti i volumi grazie mille così non possiamo avere di tutte le cifre è impossibile ma di nuovo a 6 cosa potremmo mettere ma di nuovo si ha fatto un suono ma con lo base si ha fatto con la base no da qui no però ma di nuovo qua ecco sapevo io no perché sono tutto storto ciao debz la strafonte ma sempre in mezzo ai coglioni non è possibile oh no ha fatto un suono mi sembra ha detto ma è quello base è quello base delle adorazioni che non hanno suoni specifici cazzo però sono le 20 e 30 mi spiace ragazzi poi non avete il tempo di abituarvi croce com'è buono thunder ha regalato la sabba fra ma dai grazie thunder oh ma basta oh marco dove sei? ma nell'inferno adesso sto facendo anch'io come marco sto facendo lo stesso tiro mille volte ma dai continuano ma sei ancora di qua ma non è possibile marco però almeno con nove tiri ce l'abbiamo fatta amici sono veramente come marco sto facendo lo stesso che mi insultavi vedi a parlare Eliezer bisogna essere principalmente zitti principalmente zitti che tiro ha fatto ma neanche io facevo sti tiri ho finito l'acqua ragazzi poi devo urinare perché hai finito l'acqua? non capito ti riempi la bottiglia ok guarda magari mi crescono i cappelli se li annaffio l'urina ora abbiamo superato i mille dico bugiardi no io vedo tra l'altro mi sembra strano perché il dato è uguale da 5 minuti io vedo 925 dall'inizio della live sì anche io dopo ho detto 300 ho visto 300 quello che avevo detto prima poi subito 925 non ho mai più visto un altro dato dov'è la direzione qui scusatemi credo che bisogna scendere qua e poi fare il solito tiro invece io faccio un trucco ragazzi perché sono il più intelligente della merda immaginavo Marco non ci dicono le parolacce Moro dimmi un'altra che non è una parolacce non ci dicono le parolacce non ci dicono le parolacce ma l'hai detto troppo tardi ormai ma che pezzo di merda ho fatto olinone io non ce l'ho linone mi manca ovviamente ragazzi non si può essere perfetti in più anche inteligenti perché Infatti Cosa vuol dire Ah che cazzo però E ne so cosa vuol dire corvo E se non mi aiutate voi E allora spariamoci Se dici cose a caso io ti posso anche provare Cosa ha fatto quello là da dietro Ha fatto quello che ha fatto Moro ma male Anche Moro ha fatto male Ma che mezza pin Dove è la metà Ora io metto il timer E poi devi spogliarti Ok Google Mettimi un timer di 5 minuti per favore Grazie Quanto formale A partire da adesso Molto bene Eh siamo a 930 A me sempre ho avuto 25 è bloccato Per favore box grazie Pippo A Paolo No ti è che mi ha appicciato Non ci vado più in quella bus Ci sono andato io La buca Mannaggia All in due All in due Che vuole Era qua la buca Tu sei un imbecile La buca è sempre quella Sempre quella centrale Eh no Pensavo di sì all'inizio Ma Evidentemente No Una foto su Telegram non vale Perché quelle sono le fluttuazioni Quando ad esempio partiamo la pubblicità Oppure Nient'altro si sminca il count Adesso siamo a 950 Anche sulla dashboard ufficiale Io voglio bruciare No che fa caldo Voglio essere freddo Basta Perché Arco ma spara la dritta L'avevo rimbalzato Ah vedi che Che idea Ma che idea Ma che idea Ma che incredibile Ma che sfiga Ma che idea Ma quale idea Non vedi che lei non ci sta Perfetto ragazzi Basta di uno stupro tra l'altro Ma vedi che lei non ci sta Infatti No Che idea No Stai in dance Non lo so No perché lui dice Lui dice Che idea No mi piace molto Vorrei mettermi ci insieme Però l'altro gli dice Lei non ci sta tanto Cosa ci provi a fare Quindi non l'ha ancora fatto Ah dici che però Quello non è che lui ci sta già provando No 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 È lui che vorrebbe Ma l'amico gli dice Ma non vedi che non ci sta Cosa ci provi a fare Lei ma che idea Ma l'idea Bado a quel paese Mori Non credo No non credo Se questo è l'apparato Omino Focaccino Grazie Omino Focaccino Grazie per i settimenti Ma noi e Mark Ci stiamo giocando All'ultimo posto 960 Ma dove li vedete Questi i numeri E' corda Non so Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Happy birthday Che fastidio Ma come ha fatto A fermarsi qua Ok sono dentro il buco Anch'io Ho fatto un par De goglioni A poco i mille Parnazius Apollo 12 mesi O per un anno E dice Grazie per quest'anno Di risate incredibili Che poi non è vero Vi seguivo da molto prima Ah vedi Fermo tre La prossima volta Mi dai due secondi A Monza Con questo assetto Poco Moro quanto coperto Che caldo Sto sudando per te Mi spoglio Tra un attimo Se insegnano Altro che capelli di Moro Vedete Nudo Lei Non so Non devo farla Questa cazzaia Che marle Mi hanno ucciso L'occhiale Mi hanno ucciso E' tornata la signora Col burke Che è successo 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 Ma lo utilizzo Per rinnovare Il vostro abbonamento Grazie per tutta la compagnia Che mi fa Grazie mille Bello Per averci scelto 983 Come Peter Griffin Che fa la cacca Poi si E' lo stesso Guarda che è la stessa felpa E' vero E' uguale identica Merchandising originale Ma che capperi Che sono No Stavo per pippare Cosa? Non pippare Ho detto pippore Ah Allora E' un bagliato Quello è un errore Di ortografia Quanto traversa Claire Ce l'avevo quasi creduto Pensa Bene Bene Ma che buco Che ho fatto Ragazzi Io no 900 bits Eh ma Non è la stessa cosa 200 bits Sono Ma poi perché dovete donare Non si spreca Droni Sub Euro donato Ma non dire Stai cacca Nell'aico Abbiamo più soldi Semplicemente Mentalmente Giustamente Grazie Che hai Vincitato Grazie 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 277 Io però Vorrei capire Perché ci sono Gli spettatori Che fanno 945 E aumentano Poi torna 945 Poi riaumentano Perché non ti voglio Vedere Magari Sta entrando Con più live E aggiorna Quindi non solo Veri 990 990 Eh 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 Moro Eh Eh 990 Ti è suonata anche Una spezia Marco lì Non era ufficiale Moro Ufficiale Io sono un membro ufficiale Canale Quindi è ufficiale 185 Allodimone è bloccato Dice Allodimone è bloccato Ma come si è bloccato Ti ripetono a R Vedi se funziona Ma dubito S'avrà già provato Non l'ha scritto Arric 1.200 Moro 1.200 1.200 Devo fare Quindi Aspetta Prego Ma Guarda che Guarda se Moro Hai trollato Io ti caccio da TS Non ti sento Marco Ho sentito Hai trollato Ma Lascia a perdere Dove la Cosa sta facendo Eh L'ho visto Eh Ci hai fatto vedere L'ho visto Di più Moro Di più Per favore Tanto domani mattina Devi farci due ore Moro Poche ciance Non ti sento È meglio che lo fai adesso Così togli il tuo Ho detto che domani mattina Tanto ti devono vedere Per 90 ore Ma perché sei erpiotta così Sei uguale erpiotta Aspetta È veramente erpiotta Fammi fare un tiro Anch'io lo faccio Tanto non gliene frega più niente Dico È veramente erpiotta Ormai mi hanno visto Moro stai benissimo Ma che Mi hanno visto Un capello Mi hanno visto Ma io non ho visto niente A me sembrava la forma Di un fallo Tipo panda Come ti permetti Eh infatti Per quello Fammi vedere bene Lascio vedere bene Eh No La parola No Moro Sarebbe il caso di no Voi sei parata Sede La cappella più o meno È quello eh Però Lo faccio eh Come Moro Sempre mio papà Scusami Beh non è proprio Un complimento Ma era un bellissimo uomo Poi il suo papà L'ho fatto Non si vede Sei nero dietro Non si capisce Marco Non c'ha proprio i capelli E non c'è il nocio La regina Eh vabbè Moro dai Bello fresco Non c'è neanche così male Bello fresco dai Non c'è neanche così male Adesso dovete Togliti la cuffia Un attimo Eh ma tolgo la cuffia Vabbè dai Pensavo peggio Perché sono pelato Marco Perché ti sei lamentato Eh Perché ti lamentavi Vabbè ci sta Ma Marco Cosa faccio Sei un ovetto simpatico Non c'è niente Non c'è niente Non senti un fastidio Adesso della cuffia Che tocca il cranio No Il prossimo Elieza Perché comunque Dei capelli ce li ho No Il prossimo Elieza Non sono più pelato Però Il pelato non lo faccio Mai Con la luce Sembro veramente Più pelato Di quel che sono Però eh Mi riflette In una maniera Terribile Dai guarda che Di Sembro Vabbè Faccio cagare di più Di quello che sembravo Dai oggi Mi ero convinto Ma non è vero Non stai Carino Ma non stai male E invece sono una merda Capta scritto Oro siamo gemelli forever Se sto così Con le ciglia alzate Sembra Con le ciglia alzate Sembra che ho meno fronte Adesso è lui Che spazia Gatto No io ero Ma sono ultimi Io ero Di brutto Eh vabbè Così spaccio Così ero io No non ero uno spacciatore Io ero un Un po' di colore acrilico E siamo a posto Eh dai Ma cos'è questa buca Ma c'è una Scettoria da fare Un mestiere Dove cazzo sto andando Ma posso farlo Comunque gli spazzatori Sono aumentati Quindi la gente apprezza Ma vedi che adesso Un attimo che si riprende Dal trauma E chiudono il browser Cruciano un pc Direttore Cazzo Un pg di prison break Marco E mai che sono io Ma non c'è la faccia Ma guardate che lavoro Ah io ero Ah nel senso che io Ero un pg di prison break Dai sembra che c'ho Non vanno Hai ragione Ma però se sto così Sembra davvero pelato No Ma io Ehi google Spegni la luce Dicono Moro sei bellissimo Ma lo sai che se ti guardo Dalla cosa Sembra uguale In realtà Sembra che c'hai ancora i capelli Ah è così Sì Guardi presto La mia parte Sempre quella di olivio Comunque è un sorriso Con degli occhiali sopra Sì Moro diventa Un pelato con la barba Con un pg generico di Karim E più o meno Penso che io Dovessi perdere i capelli Non potrei neanche fare come Moro Perché non ho una bella barba Quindi sarei proprio buttuto Eccomi Penso che la barba Non ce l'ho proprio Ma tu infatti ormai stai bene Cioè tu ormai La gente sa che sei senza barba E stai bene così Non ti hanno mai visto con la barba Per dire stai meglio con la barba È difficile Mi sembra veramente Un capo della mala pericolosissima Ti ha scritto Gant Sono a un punto da Marco Non è vero Marco Alla barba ottima Cosa dici? Eh infatti Così sono come Che Moro ha la barba Moro ha la barba bella Sono io il problema Alla barba Ho detto che io Non potrei avere neanche la fortuna di Moro Perché se mi perdo i capelli Non ho la bella barba di Moro Ho detto esattamente quello io Quindi i capelli comunque ti fanno cagare Marco No no Ho detto che stai bene io Ma io te l'ho sempre detto Che dovevi provare Tanto Moro Cos'è quella pinna lì? A parte che ce l'hai da 94 anni È vero Ma infatti basta Cosa vuol dire? Dalle medie che ce l'hai C'è una certa età No Le medie non ce l'avevo Ma Pocca miseria Ho fatto Aman Albatross Non è vero che sono un coreano Ma non è vero Ma come un coreano? Sono un uomo Ma poi i coreani non sono pelosi Io sono un orso Non è possibile Mia sorella mi chiamava Simione Da piccolo No no Google rispegni Mi ascolta Non mi ascolta più Non ti riconosce più Moro Sei diverso Non riconosce più Mi ha cambiato Moro fa come la fase 2 Cambia tutte le carte in tavola Ah no Casa Ritardo gira Ma non è vero Rosa Ma non sono un coreano Beh quando si fa la barba C'abbiamo una foto Dove marco un coreano Ma non Guarda che non è vero Sono senza barba Allora Corvo è un coreano Scusami Esatto Ma messicano sei tu Franci Oh oh Cos'è questo insulto Ma perché non è vero Che sono un messicano E' più probabile Che sono un coreano Di qua dove si va Oh streghetta C'ho Eh ribellino Non l'ho fatta uscire fuori C'è ribellino C'è un successo K-pop Ehm Neanche uno me ne viene in mente Grazie ribellini Che fa un anno Ehm 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 Bravo Vector Mi ha ricordato Però è una signorina È una signorina Che canta Tali Tali Tal dei tali Come si chiama Si vuole Tali Tali E no che c'è da nel copyright No Ragazzi che sono Sudore però Ma stiamo fuori E' nostra Non si bevuca Questa entra Pier Grazie Tu sei contatto Marco tu mi hai linkato Le Blackpink Sì ma era una canzone lenta Quella Era Si chiamava Ma non mi ricordo Ragazzi Era una canzone Era una canzone lenta Con un titolo breve Era molto carina Quella sì Stay Era Stay Ecco Quella è carina Dai Caruccia È che a me non piace Kpop Non mi piace Beh che non è Kpop Quello lì Praticamente È Kpop In quanto sono loro Coreane E quindi sì Però non è neanche Kpop Sono anche caldo Hot Red E' incredibile Tutte le strade Portano a Roma Chi è Il punto della mappa Che non conosco Chi la conosce Questa Roma Dante Nudo Su Beatrice Ma cosa Grazie per la sub Grazie per la sub Dante Nudo Su Beatrice Grazie Per carità Avranno anche loro Fatto le loro cose Tanto se erano lì Potevano fare Le loro cose Voglio dire Dante le hanno usato Tutte quante Quindi Ma io sulle cuffie Al contrario Ecco perché mi vedevate male Adesso Tutto un altro aspetto Ho disfatti tutti Cono Le comando Loro Cos'hai tirato fuori Lose Mi dimentico Di queste cose Sempre qui Che poi non so Andare avanti Da qua Ma è un labirinto Questa buca di cacca Vorrei dire Qualcosa di Fanny Per il taglio di moro Ma sono troppo scioccato E allora Puoi dire Oh Così Oh Oh E devo un attimo Riposare Divano Ivana Adesso Non c'è più niente Di cui parlare Abbiamo perso Il Però sei un po' Pandev Quando ti tiri Che ti è Ti tiro a casissimo Pandev Il bene Il calciatore Ormai Che sia abbastanza fallito Ma poverino Pazzo Di fallo Sembra No Proprio fallito Fallissimo Lucocco Grazie Lucocco Lucocco L'ho fatta Cazzo Io ho letto Rosa che ha detto Ragazzi mi stavo tirando sui pantaloni Mi sono tirato un pugno in faccia Scusa se l'ho detto in live Rosa ma Che donna Che donna Per forza Cioè non è Una tomba Vip your score Non è possibile Che ha questa vita così Inebriante Lei Non ho detto Che non gioca più Dove sto andè Modul E questo posto Dove sono finito No no Ma porca miseria Limo Ma lì pio scorda Ma proprio c'era scritto No non è vero Stratto giù Che precisione ragazzi Niente Che sono Straultimo Sex Pandev Non ha vinto anche il tripleto Penso di sì Non come protagonista Forse Era più milito Il protagonista Poi ricordavo Che il tripleto È di dieci anni fa Non è che è l'altro ieri No effettivamente È invecchiato Non è l'altro ieri Ma do il dieci anni Sono passati La gente continua a dirlo Quindi mi sembra La roba di ieri Ma da te È passata la vita Sì questa buca Le canaline di legno La canalina di legno La canalina di legno Cos'ho visto Sì puoi andare di là Non mi penso Sì però Vabbè caschi comunque meglio Sì di qua è più facile Qua è molto più facile Eh sì se vuoi i mondiali del 2006 Su quelle vittorie che la gente si ricorda Vabbè è passata la vita Ma non è possibile Ero all'ultimo Ero al massimo Ma poi già vi siete abituati no? Ma io ti vedo Vedo tutto scuro dietro Per me Hai ancora la pinna Domani mattina Sembro meglio Marco Vedi tutto scuro poi Scusa Perché ti vedo piccolino Da OBS Ha vinto Kaser Dai sono andato bene Ma scusa Ma è passchi industry? Io non vedo come vedete voi là Cioè sì però vedo piccolo Pass qui Cos'è che hanno scritto in chat? Ha quittato Ah Amici io rimetterei Le circuite di pagina No vabbè manca 10 minuti ancora Facciamo una mappa rapida Solita Ma sì ma sì Se volete traccherare 10 minuti Quelli che vi pare I primi che entrano L'amico delle guardie Partiamo sgraccia Proprio vai vai Butta butta Ok Metto ok Metto Perché hai mal di testa? C'è collisimo In ricordo dei nostri momenti insieme Grazie Pinda La pinna di polo Mi dona 30 euro Grazie mille Pinda L'altro lo ricrescerà fra un po' Avevo un bel po' di capelli Cioè lo tenei che vedi Erano un botto Erano Ho preso Un sacchetto D'immondizia pieno Grosso così Eh tu non vedi Quando ho tagliato io Non hai idea Cosa c'era Ma quelli Rallongilinei No no ma anche Recentemente Dopo me ne avevo già tagliato E niente Pierpo Non hai fatto in tempo Mi sa Non mi vediamo Chi c'è Non posso vedere Chi c'è E tappi Sì Eh non mi tappo Perché non arriva neanche la bucca Penzo Paolo Turchi Ma no ma sono un dischetto E sono partito via Ma si vero che siamo dischetti Ma dove sono? Ma dai mi ha parato male Eh? Ma Pippo Non tagli i capelli Da ottobre Eh ma immagino Ma che vergogna Ma che vergogna Cappellone quindi Eh io non ne la faccio più Quando le do Forse le ho tagliate a gennaio Guarda 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 Tagliarli Rinforza E rallenta La caduta Eh ma ormai È troppo tardi Quelli che sono andati Sono andati Cos'è che ha Rosteria Tagliarli Rinforza I capelli Rallenta la caduta Sì sì è verissimo Dai Ma dietro Come hai fatto Moro tu Sono lunghi dietro Non si vede Perché non mi sono mai girato Marco Non possono essere lunghi C'erano i lunghi anche prima Dietro Sono lunghi Moro ma cavalcami allora Va bene Indietro Praticamente qua dietro E di posso fare la coda Posso fare Poi ti dico In privato Chi sembri Sì Eh è stato in privato Io voglio sapere Ma in chat Tanto non sanno Non è capito un cacchio Vettoro Che Vettoro sta pensando Mussolini Io lo so Non c'entra niente Come? Non c'entra niente Mussolini Sto così Così forse un pochino Ora no No Non è il tizio A lucarelli Ma che cacchio di lucarelli Avete visto ragazzi Paura eh A lucarelli esatto No non il cacciatore Si immaginavo quel lucarello Ma comunque Anche il cacciatore Anche fosse Beh Anche perché Scusa Ha detto prima Che tanto la chat Non conosce Mussolini Guarda che Gould Ma fa fa E Iguain Prima Erie Ma ho detto Che non lo conoscete Gesù Scusa Ma Ademstip Ormabanno Cosa ha detto Ma Scusami No A me è per niente Comun Franco James ovviamente Si si James Ma che palle Cio Buca Esatto Poppo Che buco Beh beh Ma Boppo Eh Boppo Ero Boppo Comunque Vi siete Adesso Vi siete Abituati Vector Fammi un sondaggio Se siete Abituati Sì 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 O no E se risponderò No Che succede E sta Ancora un'altra Ora Ah ok La sermane Ma se non Prendi Il mio zio Peppe Dicono Proprio Un nome Da zio Peppe Ma che Cazzo Che so fare Col da dietro Vero Non so Magari Funziona In generale Siete Abituati Alla vita La quarantena Esatto Senza farci molto Vedo C'è uguale a prima Quello che ho detto io Cioè se lo guardo di striscio Mentre sto facendo altro Da stream Lo vedo più piccolo Di voi No no Ma io ti giuro Che per me Ha ancora la pinna Perché io lo vedo Anche più piccolino Vabbè ma guarda Basta che faccio così Infatti è uguale Quanto tempo che non è in tv Tra l'altro Peppe Peppe Quintana Sai che non me lo C'è Ce l'ho presente come nome Ma non me lo ricordo È un presentatore pelato Pellettissimo Senza un filo di barba Proprio glabro Compe da me Ha le sopracciglia però Meno quelle si riconoscono Io così mi ricordo solo Roberto Ciuffoli però E più o meno Roberto Ciuffoli però Non ha un bel fisico E lui fa teatro Ma l'unico che rimasto in tv è Ciuffoli ha un gran bel fisico Questo qua no L'unico che rimasto in tv è Più che è parlato di me Che poi anche lui No Questo qua Questo qua È Beppe Quintana Ma 163 ha votato e basta Così pochi No Sì Ha votato 163 Beh Diciamo comunque che Il 72% Della popolazione mondiale Si è già abituato Immaginavo Sì Infatti È un lui o Gesù Momò Quei due mi ricordavano Ricordavo Marco con i capelli lunghi anche Sì è un pochino anche di me Tanto ormai sono uguali a tutti Eh Come non è la maggioranza Certo No È la maggioranza relativa Non è assoluta Eh beh Maggioranza sempre Così era uno spot politico Sì sembrava Ho pensato un attimo Maggioranza Anche maggiorana Marco Sì è un pochino sempre Sì è un pochino sempre Amici Basta Io ho visio con firme Pippo Ma che cazzo Pippo Allora Posso pippa quello che vuoi Che ne so Non si fa Non si fa però Maggioranzia Sempre Che sudore che ho Mangio arance Sempre Ma guarda te che lavoro Che mestiere che bisogna fare Aspetta fammi fare il sondaggio Nel gruppo nostro Che sennò mi dimentico Poi Sempre per i miei caprirli Non c'è bisogno Va bene fare la La drag queen Che non era La drama queen Tipo Adesso ci metteresti a farli crescere poco Però non voglio Corvo miei a chiamare Rosa ma chi ti caga Cosa vuole? Non so È matta Ma guardate che sex Oh che sex Double sex E bah un culo allora Eagle peagle Ma sono morto C'era scritto underpants E l'ho letto io Tra l'altro è colpa del 5G Se mi sono tagliato i capelli Andiamo a fare le mani Allora l'avessi persi Proprio per colpa del 5G Sì Fossero caditi tutti all'improvviso Con i capelli lunghi Non mi ci vedo neanche Meno che pelato Mi sembreresti forse unto Con i capelli lunghi Forse ugo No probabilmente Con i capelli lunghi Divento come Il becchino di avanti un altro È vero Potrebbe essere Quella cosa lì per davvero Perché partono tutti da dietro Tutti fini fini Non si sa in realtà Magari anche no Però Ma non è finito fini 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 Ma finiti è morto Ma no finini No finiti è morto Polino All'attore Da un bel pezzo Sì Ti ho fatto un bel tiro Arriviamo alla 9 Non ci penso Vedi Almeno Trovano Il trotto era fini Scusa Il trotto era Bossi E il figlio E il figlio tra l'altro Il figlio tra l'altro Di Bossi Sì Ecco lui è sparito Ma giustamente Anche secondo me Sì Amici Noi No facciamola ultima Facciamola Porca miseria Allora devo riusci Cazzo Mi hanno fottuto Non sapevo che era l'ultima Guarda che lavoro Che schifo Ma che sex Perché non mi spinge Perché non è un rapporto completo Momo Ah Ha capito Ha capito H A cagare Marco Ho diciamato To ha capito H Ma perché salta Ma che vuol dire Ma è perché c'era il pistol Ma non deve saltare X Wow Allora vediamo la prossifica Poi Ma io boh Non ho capito Ehi va bene Ah ma non so Mi sono sprofondato Ma Estrano un pensiero Tirò sotto lì Un crocio Yes Io ho tirato per errore Ma che bestia Che sono Schifo missile Ti ho guardato Ma non ho ben capito Cos'è successo Vediamo un po' Analizziamo questa situazione Con questo disghetto Niente Ciò possiamo fare amici Ma che scarso Che sono Beh sono terzo Com'è possibile Scusami Eh deve ancora aggiornare L'ultimo Ah già Poi sei Ah sei terzo Incredibile Sto facendo cagare E io E sono sempre mezzo Sono sempre metà Io Sono sempre metà Ma che questa buca Ma che questa buca L'ha stravolta un po' Disghetto Grazie a tutti E fan Mentre Cato Bleppa Non ce la può fare No Anche Anche 7 secondi Oh Amici Domani sera c'è Chifa Tra il marchetti Di pomeriggio Amici Fatevi la prova Di Disney Se non l'avete ancora Fatta O fatevi l'abbonamento Che domani faccio La lista Nel marchetti Esatto Domani abbiamo Il comando Punto esclamativo Disney Abbiamo un programmone Abbiamo domani mattina La prima puntata Di Una botta e via Con Hollow Knight E me pelato Quanto pare Poi abbiamo Subito dopo Marco Nel marchetti Che Spulcerete tutti insieme La lista Di Disney Ah sì Comando Appunto Promo di Disney Plus E la sera La sera Che è Terzo evento Ci sarà FIFA Quindi Oh giornata pienissima Di cose incredibili Visto che cavallo Ha scritto Che è in app Per le FAP Star Wars Vector Riesce a mettere Velocemente Il link di nuovo Abbiamo il link Di Zavi Con il nostro E che tra l'altro Ricordatevi C'è lo sconto Che è questo qua Ma cosa Mi ha linkato Vector Scusate Qualcuno sa Qual è il cognome Di Totti Ha linkato Molto bene Molto bene Molto bene Che figura Che figura Che figura Dimmi Piero Cosa c'è Davanti a milioni Di persone Ma scusa Non ce l'avevi Nel E là perché L'aveva già linkato Subito lui Ecco l'ho trovato Nel gruppo C'è L'ho trovato Che è questo qua Il link di Zavi Questo qua Tenetelo sempre in memoria E c'è Lo sconto I termosifoni I termosifoni 20 Tutto attaccato Vi dà Lo sconto Sull'abbigliamento Se mettete I termosifoni 10 Vale per tutto il resto Qualsiasi cosa Non per forza Tra l'altro Troppo il Lego Mi chiedono Quindi Niente Amici Tutti da gatto Adesso vi lasciamo con gatto Che gioca con le mani Se ce la fai Esatto E gli dite gatto Gioco di mano Gioco di villano Scrivetelo Esatto Va bene A domani mattina A domani belli Domani